ragazzi ragazzi è ufficiale la juventus è inculata e paga gli arbitri ragazzi siamo alla quattresimo calcio di rigore in favore per la juventus che se lo segna ragazzi può passare lei ragazzi incredibile incredibile ragazzi la juventus paga gli arbitri ma questo ragazzi lo sapevamo già ragazzi che la juventus paga gli arbitri questo lo sapevamo già ragazzi che all'ottanta quattresimo ragazzi deve arrivare qualcosa no non si può dare si può lamentare deve arrivare qualcosa calcio di rigore puntualmente concesso dall'arbitro che ha fatto una partita oscena tutto tutto a favore della rubentus ragazzi ma lo sappiamo tutti che pagano gli arbitri attenzione è in corso il bar dai ma che cazzo di rigore è questo vai oblac calcio di rigore confermato ma le immagini lasciamo pochi dubbi che cazzo pochi dubbi va ma lasciamo pe oblac oblac lo para ragazzi oblac lo para attenzione che se non è ronato contro oblac oblac lo para ma vaffanculo ragazzi ufficiale la juventus paga gli arbitri 3 0 tripletta di cristiano ronaldo ma anche tripletta dell'arbitro perché ragazzi un errore sopra l'altro per favorire la rubentus che paga gli ragazzi ciao